Stop al lavoro nei cantieri, in cava e al piano, quando fa troppo caldo. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dalla sindaca di Carrara, Serena Arrighi, che ha raccolto la sollecitazione arrivata da filea CGL nell'ambito della campagna caldo estremo doppio rischio. Fino al prossimo 31 agosto, se e quando a mezzogiorno il sito INAIL segnalerà un livello di rischio alto, cave, segherie, laboratorie in generale e tutti i cantieri all'aperto dovranno sospendere l'attività dalle 12.30 alle 16.00. La sicurezza sul lavoro è per noi un elemento molto importante, i lavoratori devono poter lavorare in maniera serena e su luoghi di lavoro sicuri. Per questo motivo abbiamo deciso di accogliere delle sollecitazioni che sono arrivate da organizzazioni sindacali e di fare ogni ordinanza. L'amministrazione di Carrara è una delle prime che ha risposto positivamente alla nostra campagna. Chiediamo agli altri comuni della provincia di fare altrettanto, a partire dal capoluogo di Massa, commentano i promotori dell'iniziativa Nicola Del Vecchio, segretario generale CGL Massa Carrara, e Francesco Ventimiglia, segretario generale Fillea Apuano, ricordando che la sicurezza dei lavoratori ha bisogno di atti concreti. Grazie.